Salve a tutti amici di Youtube e benvenuti in questo nuovo video. Bello, è veramente bello il lunedì quando vince il Milan, c'è una tranquillità nell'aria, siamo tutti più allegri, i video sono più allegri. E devo ammettere che questo lunedì c'è uno spirito se è possibile ancora più positivo. Perché il Milan ieri ha vinto una partita in maniera, tra virgolette, inaspettata. E l'ha vinta in maniera inaspettata, mi spiego meglio. Ieri tutti dicevamo, eh, serve un miracolo, serve l'impresa, bisogna fare qualcosa di straordinario per portare via tre punti da questa partita. Ma alla fine della fiera, quello che abbiamo visto, secondo me, non è niente di tutto ciò. Il Milan ieri ha vinto in maniera agile, facile. Cioè, è come se la partita non fosse stata impegnativa. Cioè, il Milan ha, tra virgolette, imposto la sua partita dall'inizio fino alla fine. E l'ha vinta facilmente. Una cosa, che secondo me, non siamo riusciti a fare con l'Udinese. Con l'Udinese, secondo me, il Milan, purtroppo, ha dovuto subire la partita dell'Udinese. Voi ovviamente direte, ma se loro hanno fatto il catenaccio e il contro un piede, vero. Ma se ci fate caso, il Milan non è mai riuscito a creare occasioni degne di nota. Il Milan ha attaccato esattamente come voleva l'Udinese. Contro l'Udinese abbiamo fatto, per tipo tre ore, cross in mezzo, cercando la spizzata, abbiamo messo sti lanci lunghi, cercando di trovare uno sbocco sulla fascia e niente. Tutti i modi di attaccare che hanno fatto il gioco dell'Udinese. Perché se hai il leao come punta e inizi a mettere i cross in mezzo all'area, stai facendo il gioco dei tuoi avversari. Perché con quel modo di attaccare sarà difficilissimo sculare un gol. Infatti, per trovare il gol è servito il rigore al novantaseiesimo. Perché se no quella partita l'avevi persa. L'avevi persa, col senno di poi sappiamo anche che molti non erano al meglio. Penso a Teo Hernandez, penso a Rebic. Rebic con l'Udinese palesemente non era al meglio. E si è visto. Ieri, paradossalmente, nelle difficoltà siamo riusciti a mettere una formazione infarcita di gente che fisicamente stava bene. Pioli non ha messo gente così sacrificata, gente che doveva stringere i denti. Per la prima volta ha detto mettiamo tutti quelli che stanno bene. Ieri si è visto, ragazzi, perché quelli che sono scesi in campo stavano bene. Fisicamente e mentalmente. Ha messo in campo una squadra di gente pronta. Fisicamente proprio al top della condizione. E si è visto. Si è visto. Con l'Udinese questa condizione fisica non si è vista. Purtroppo. Purtroppo perché, ragazzi, perché Rebic è sceso in campo con il problema all'anca che aveva avuto già con la Roma, ha stretto i denti. Ma non era al massimo e si è visto. Teo Hernandez, ripeto, secondo me è stato più un problema mentale. Quello di Teo, ma anche lui, non era al meglio. E queste cose, secondo me, le abbiamo pagate. Le abbiamo pagate. E ieri, oltretutto, ritornando al discorso di prima, tu ieri hai imposto al Verona la tua partita. E questa è la cosa che, secondo me, ha fatto veramente la differenza rispetto alla gara di mercoledì. Ieri tu hai fatto la partita che volevi fare. Cosa che mercoledì non sei riuscito a fare. Voi direte, sì, però l'abbiamo sbloccata con l'episodio. Chiaro, l'episodio c'è sempre. Però il secondo gol non è un episodio. Il secondo gol è un'azione fantastica, rifinita e finalizzata in modo eccezionale. Da giocatori che, tecnicamente, hanno dimostrato di essere bravi. Tutti. E qui andiamo su un altro piano. Apriamo un altro discorso. Il Milan è una squadra scarsa che sta overperformando. No. Questa, purtroppo, è una bufala che non vale più. Ma che non ha trovato, secondo me, il riscontro sul campo. Perché alla fine è il campo quello che parla. È il campo quello che deve dare i giudizi. Il Milan è una squadra forte. che, tecnicamente, ha dei valori che sono sicuramente forti. Ora, no? Siccome l'analfabetismo funzionale di Laga, specifico, essere una squadra forte non vuol dire essere a livello di Juventus e Inter, no? Però possono esserci anche più squadre forti. Udite, udite. Può essere forte l'Inter e può essere forte anche il Milan. Lo so che ora sto aprendo un mondo a tutti gli spastici che ci sono su YouTube. Però, paradossalmente, può succedere anche questo. Il Milan è una squadra che ha dei valori tecnici importanti al suo interno. E ce ne sono tanti. Anche tra le seconde linee. Perché ieri la squadra era infarcita di seconde linee. Il buon Krunic, tanto vituperato, anche da me, anche da me, ieri ha fatto una signora partita. L'ha approcciata nel modo... nel modo corretto. Perché? Perché mentalmente è entrato nell'ottica di uno che, cazzo, ho l'occasione di dimostrare quello che valgo. E ieri è entrato in campo proprio per dimostrare quello che valeva per mettere tra virgolette i bastoni tra le ruote a pioli. Ha indovinato il gol su punizione ma ha fornito una prestazione solida. Come lui, anche Salemeker. Ottima partita ieri anche se Salemeker, a conti fatti, è un titolare. Prestazione ottima ma anche di Meite, di Dalot, di Romagnoli, tutta gente che deve tra virgolette riconquistare un posto e ieri ha provato a farlo. Perché ha detto toh, non prendiamo tutte queste assenze come cazzo siamo perduti, no, prendiamola come dimostriamo quello che valiamo. Tutti. E questo, secondo me, a livello mentale ha fatto tutta la differenza del mondo. Fermo restando che in questa squadra ci sono anche dei top player. Del portiere ne abbiamo straparlato. Di Davide Calabria ne abbiamo straparlato. Ora, Davide Calabria secondo me non è un top player. Ora, ovviamente è chiaro che sto prendendo un po' in giro adesso. Ma in questo momento è un terzino che ha pochi uguali in Italia perché è un terzino che oltre a fare il lavoro che ti fa il terzino ti fa anche il lavoro del centrocampista perché ha dei piedi da centrocampista sa impostare bene sa tenere palla sa portarla è preciso quando c'è lo scarico è preciso quando deve triangolare difende bene corre tanto e soprattutto dall'anima dall'inizio alla fine. Ripeto e Davide Calabria è uno di quelli che io ho criticato tantissimo su questo canale ma che quest'anno sta dimostrando di essere un giocatore di alto livello un giocatore che per quanto mi riguarda può puntare all'europeo senza dubbio cioè per me Davide Calabria in nazionale ci può stare voi mi direte magari da titolare no vediamo è chiaro in quel ruolo c'è Florenzi che sta facendo un'ottima stagione al PSG la scelta però ripeto tolto Florenzi non è che sia ampissima quindi secondo me un giocatore come Calabria può dire la sua e secondo me ha ottime possibilità di conquistarsi una maglia all'europeo Tomori ieri ragazzi per carità secondo me tra tutte le uscite che ha fatto ieri forse è stata quella meno brillante il che fa capire effettivamente come sta rendendo Tomori perché ieri Tomori ha giocato bene però diciamo siccome è uno che ha sempre giocato bene quando è sceso in campo ieri forse è stata la partita meno brillante qualche sbavatura di troppo magari nel primo tempo che nelle altre partite non aveva mai concesso insomma bene sì come al solito però forse un po' meno del del solito e poi passiamo a quello che è effettivamente l'MVP il vero MVP della partita di ieri il vero MVP di questo momento del Milan che è Frank che sì Frank che sì in questo momento è per distacco uno dei primi tre centrocampisti del campionato italiano perché gli unici che reggono il confronto sono per quanto mi riguarda Barella e Milinkovic Savic io non sto considerando ovviamente i trequartisti alla Luis Alberto considero i centrocampisti tra virgolette di contenimento barra impostazione barra tutto campisti non considero i trequartisti barra mezze punte tra i centrocampisti che sì in questo momento entra nella top 3 agilmente che sì si sta trasformando in un centrocampista totale completo il fisico l'ha sempre avuto è sempre stato un centrocampista fisicamente dominante però giocando da Nezzala secondo me un po' perdeva perché non aveva paradossalmente tutto quello spazio per esprimersi che sì è uno che nel centrocampo a due rende tanto perché può fare paradossalmente quello che vuole perché lui è il classico centrocampista box to box che te lo ritrovi ovunque letteralmente ovunque in questa squadra ormai ha raggiunto uno status elevatissimo perché è un punto di riferimento per tutti a fianco a lui metti meite metti calabria metti tonali metti chiunque vuoi questo chiunque rende perché è lui a reggere proprio il tutto e devo ammettere non ci speravo più io quando il minan acquistò che si ero molto contento perché lo consideravo potenzialmente un centrocampista ottimo non aveva fatto malissimo negli anni con Gattuso però ammetto che l'anno scorso ci avevo perso un po' le speranze soprattutto dopo la partita con l'Atalanta dicevo Tom secondo me l'abbiamo perso irrecuperabile invece Pioli con il suo lavoro ha regalato al Milan un centrocampista che al momento in Italia ripeto è facilmente nella top 3 e in prospettiva chissà chissà vediamo come giocherà magari con lo United a questo punto da Frank visto anche il suo momento di forma mi aspetto una prestazione importante anche sotto quell'aspetto e quindi ragazzi ieri cioè secondo me non c'è molto altro da dire sulla partita di ieri una partita giocata bene approcciata bene con tutti i giocatori che hanno provato effettivamente a mettere in difficoltà nel senso buono l'allenatore e che alla fine l'hanno vinta meritando e senza faticare e aggiungo piccola chiosa perché sono un bastardo senza rigori così non rompete che bello ragazzi e insomma questo ah ovviamente per chiudere tra virgolette un po' tutto il discorso i complimenti vanno fatti anche a Stefano Pioli perché io purtroppo in questo momento devo anche leggere qualcuno capace di criticare Pioli eh ma Pioli sì però a fine anno serve l'allenatore vincente Pioli sì però secondo me non convince Pioli sì però al momento no no ragazzi ora io mi metto nei panni di Stefano Pioli Stefano Pioli ieri ha dovuto fare una formazione con letteralmente 12 giocatori di movimento a disposizione più Robac cioè ora io chiedo proprio sommessamente ai detrattori di Stefano Pioli lo sono stato io ai tempi ma ragazzi ho cambiato idea perché l'evidenza la realtà mi ha fatto cambiare idea e non posso continuare a seguire un'idea se la realtà che palesemente mi sta dicendo avevi torto ecco quello che chiedo io è a questa gente ma vedendo proprio gli uomini a disposizione ieri con quale coraggio si può criticare Stefano Pioli allenatore del Milan allenatore di un Milan che oggi alle 10 e 20 dell'8 marzo 2021 è secondo in classifica secondo in classifica a meno 3 dall'Inter e vediamo che succede stasera in Inter Atalanta con che coraggio si critica Pioli ragazzi la Juventus sabato scorso è venuta a Verona e ha dovuto subire il Verona pareggiando la partita il Milan ieri con mezza squadra fuori è andata a Verona a passeggiare passeggiare perché Pioli l'ha preparata benissimo l'ha preparata sempre sull'uno contro uno ha detto alla squadra accettiamo gli uno contro uno se potete raddoppiate il compagno aiutatevi l'ha preparata semplicemente in questo modo cioè ragazzi sono fatti ripeto sono fatti allora io lo so che parlare di un Milan vincente quando avremo l'allenatore vincente quello vincente i giocatori da prendere a fine anno ma c'è una stagione viva nel suo vivo stiamo vivendo qualcosa che non vivevamo da tanto tempo non ha molto senso secondo me mettere in discussione l'allenatore anche perché ripeto per mettere in discussione Pioli al momento bisogna essere bisogna dirlo un po' stronzi un po' stronzi siete se mettete al momento in discussione Pioli quindi che dire godiamoci il momento e basta secondo me quindi che dire questa secondo me era Verona Milan Verona Milan a 360 gradi tutto quello che c'era da dire sulla partita l'abbiamo detto a questo punto speriamo di recuperare qualcuno per Manchester ma vi dirò io mi godrò questa trasferta di Manchester come se non ci fosse un domani e a tal proposito vi ricordo che stasera sarò in diretta a partire dalle 19 sul canale per approfondire ulteriormente la partita per rispondere come al solito a tutte le vostre domande quindi ore 19 ci vediamo qui sul canale a più tardi boys grazie per aver seguito questo video vi ricordo che potete anche abbonarvi seguirmi su Twitch perché lì faccio le reaction a tutte le partite del Milan un salutone ciao ragazzi sempre Forza Milan ciao